Sicuramente loro vengono in casa nostra, quindi da lì bisogna già essere consapevoli che comunque vengono qui e devono trovare delle difficoltà, però essendo sempre umili e portando sempre rispetto. Ieri in Cittadella sono stati bravi a finalizzare quello che hanno creato e comunque il Palermo resta sempre la favorita per il campionato, quindi questo non bisogna dimenticarlo. Come ho sempre detto, il quinto, il 3-5-2 è sempre stato il mio modulo preferito, ho giocato anche terzo dietro, quindi l'ho fatto spesso. Come ho sempre detto, devo sempre pensare a farmi trovare pronto in ogni situazione che il mister mi chiede, sia come ruolo sia in tutte le partite. Quindi devo farmi trovare pronto, questa è la cosa importante. Poi ogni partita è comunque… sì, adesso… niente, devo farmi trovare pronto, questa è la cosa più importante che devo fare. Poi il resto verrà da sé. Devo dire che comunque anche quando sono arrivato qui a inizio ritiro non ho fatto un bel ritiro perché non stavo bene, ho fatto fatica a entrare in condizione e quindi forse anche per quello ha preferito giustamente altri giocatori. Adesso devo dire che sto bene sia fisicamente che anche mentalmente e poi, come ho detto prima, il 3-5-2 rispecchia magari le mie qualità in fascia. Niente, adesso stiamo preparando la partita, l'importante partita di sabato e stiamo un attimo vedendo come andargli a prendere e niente, però speriamo sia una bella partita. Beh, sicuramente andare a fare punti là, sicuramente non tutte le squadre ce la faranno, sia per il clima che comunque per la squadra di alta qualità che è il Frusinone. E quindi ci ha tirato sul morale e poi dispiace per quell'infortunio a Richard che ci ha un po' un attimo scombussolato tutti quanti, però comunque il punto ci ha dato grande umore. Penso che comunque abbiamo una squadra molto competitiva la nostra, abbiamo gente forte in tutti i ruoli. Io in questo momento, come ho detto prima, mi sento meglio sicuramente dei mesi passati, sia fisicamente, ripeto, che mentalmente. Voglio dare il mio contributo, voglio dare una mano a questa squadra perché ce lo meritiamo e niente, questo è il mio pensiero. Sì, beh, sicuramente con Richard io lo conosco quasi da 8-9 anni perché comunque quando sono arrivato a Brescia lui era già lì, nel settore giovanile, quindi abbiamo passato un sacco di momenti in convitto anche assieme quando eravamo più giovani, quindi lo conosco ormai da una vita. L'ho ritrovato qui, mi ha fatto molto piacere perché comunque siamo sempre andati d'accordo, ci sentivamo anche spesso. L'anno scorso quando abbiamo giocato contro ci siamo addirittura scambiati la maglia, infatti ce l'ho a casa. Per me è stata una brutta cosa vederlo lì a terra sofferente perché, come ripeto, è il ragazzo che lo conosco da più tempo in spogliatoio. Però sono sicuro che lui si riprenderà alla grande perché comunque ha un carattere molto forte e tornerà sicuramente più forte di prima, questo ne sono sicuro. Per quanto riguarda il mio tiro, diciamo che a fine partita ho parlato anche con Bardi, gli ho detto che poteva lasciarla andare, però ha fatto una gran parata e purtroppo è andata così, adesso vediamo sabato, magari proverò un'altra volta a tirare, sicuramente. Penso che comunque con i grandi giocatori sia qualitativamente che l'esperienza che hanno loro questa cosa la lasceranno fuori dal campo. Io penso così, poi sicuramente può influire perché comunque Palermo è una gran piazza e spingono molto, però con i bravi giocatori che hanno loro sicuramente con tutta l'esperienza che hanno la lasceranno fuori dal campo e penseranno solo a venire qui per portarsi a casa i tre punti e noi dobbiamo impedirgli di fare questo. Sicuramente, se hanno detto questo vediamo sabato alle tre cosa succederà. Io penso che non andranno via sicuramente, anche se fosse comunque, se dovessero comunque portarsi a casa i tre punti, di sicuro in una maniera non molto, dovranno sicuramente faticare, però comunque la partita comincia a 0-0, quindi vedremo come andrà. Sicuramente bisogna mantenere la linea che stiamo portando in questo periodo qui, però come ripeto prima siamo in casa e quindi questa cosa qui ci deve fare un attimo, prendere più consapevolezza che dobbiamo portare a casa i tre punti, sia per i nostri tifosi e tutto quanto, e fare quella partita anche qualcosa in più di Frosinone, perché comunque anche riguardandola, se magari eravamo un po' più tranquilli nel giocare pallone, comunque loro dietro concedono molto, quindi riguardandola magari se eravamo un attimo più tranquilli, potevamo anche fare qualcosa in più, però è stata comunque una partita ben giocata e abbiamo avuto tante occasioni, però ormai è andata, bisogna pensare subito alla prossima partita. Sì, all'interno abbiamo provato anche il ritiro col mister, sì, ormai diciamo che i ruoli più o meno li ho passati quasi tutti, non ho problemi ad adattarmi, poi queste saranno cose che vedrà il mister se ne avrà bisogno, io come ho sempre detto ci sarò.